Sta suscitando numerose proteste e reazioni politiche la decisione del Governo di destinare all'ammodernamento e al completamento della rete ferroviaria a Sarda solo 300 milioni, una somma esigua che basterà appena ad apportare interventi di routine. Questo in una Regione in cui è presente l'unico capologo di provincia italiano, Nuoro, non servito dalle ferrovie dello Stato. Ieri il Presidente della Regione, Cristian Solina, si è intervenuto chiedendo al Governo a distanziare i fondi adeguati, 3-4 miliardi per creare un sistema ferroviario in grado di interconnettere gli scali marittimi di Olbia, Porto Torres e Cagliari. Sulla questione oggi interviene con una nota l'Avvocato Claudio Solinas, Presidente del Comitato Popolare Trinitalia-Nurese. Destinare nel PNRR solo 300 milioni per le ferrovie è un atto gravissimo che calpesta la Sardegna e tutti i sardi. Ieri il Presidente della Regione ha chiesto una netta presa di posizione del Governo rispetto alle decisioni della sua controllata rete ferroviaria italiana. Immediata è stata la reazione dei senatori sardi che chiedono un tavolo tecnico e politico, scrive il Presidente del Comitato Trinitalia-Nurese, che ricorda come la nuora Oma Comerre, in funzione della nuora Olbia, sia un progetto immediatamente cantierabile. Sono stati indicati costi e tempi. È un progetto sostenibilissimo dal costo di 114 milioni di euro, ribadisce l'Avvocato Solinas. Esiste la linea, vanno allargati i binari di 50 centimetri, sono state smussate le curve e non ci sono espropri da compiere. La Regione si è obbligata a cedere la linea. Non può non essere evidente che, mentre si discute da mesi se realizzare il ponte sullo stretto di Messina, non si prende in considerazione la scheda Sarnet e lo studio di prefattibilità della nuora Olbia del 2019, appena 100 chilometri di nuova linea con sei fermate strategiche a Sologo, Siniscola, Budoni, Sant'Odoro, Porto San Paolo, Aeroporto di Olbia. Opera di evidente rilevanza strategica nazionale e non solo regionale, conclude il Presidente di Trinitalia-Nurese. Grazie!